Al di là della considerazione di tutti i morti, di tutte le stragi, di tutti i paesi e continenti, non è quello il momento di parlarne. Ci sono altri momenti ai quali è dedicato il nostro ricordo, naturalmente concentrato e partecipe, ma non per la festa della Repubblica. E comunque lui ha parlato di immigranti, di Roma e di sinti. Hanno fatto molto discutere le parole del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che commentava nelle ultime ore con un post su Facebook quello che precedentemente il presidente Fico aveva detto in occasione del 2 di giugno. Il presidente della Camera aveva fatto un discorso, chiamiamolo inclusivo, dedicando la festa della Repubblica non solo agli italiani, ma anche a tutti coloro che sono presenti sul suolo italiano. A tutti i migranti, aveva detto, che si trovano in Italia tutte le comunità, anche quelle minori e più deboli, ai Rom, ai sinti, anch'essi perseguitati e vittime dell'olocausto. La Repubblica non fa differenze e la sua bandiera sventola per tutti. Ho trovato veramente fuori luogo il fatto che lui la volesse dedicare ai presenti in Italia in questo momento, che siano i sinti o che siano i Rom o che siano i migranti. Ha poco senso, massimo rispetto per queste persone, massimo senso di responsabilità per la loro accoglienza e la loro permanenza sul nostro territorio, ma questo è il nostro paese. Siamo italiani e il 2 di giugno è la festa degli italiani. E la terza carica dello Stato non si può permettere di dedicare una festa che è degli italiani ad altri. Questo è stato il mio motivo di risentimento. Gli ha scritto si dovrebbe vergognare. Ma sì, perché alla fine poi anche nella Costituzione c'è scritto, tra l'altro, che la difesa della patria è un dovere istituzionale, è un sacro dovere dei cittadini. E allora c'è gente che ci è morta per questo. E lui non si può permettere di dedicare ad altri una festa che è degli italiani. Parole che hanno subito suscitato la reazione della minoranza in Consiglio Comunale ed in particolar modo di Francesco Romizzi, consigliere di Arezzo in Comune. Strumentalizzare, dice la festa del 2 giugno ai fini politici, chiedendo a una delle più alte cariche dello Stato di vergognarsi, ritengo sia una pessima caduta di stile. Soprattutto usando come spunto l'italianità di una festa, che possiamo celebrare, ricorda ancora Romizzi, anche grazie ai tanti stranieri, neozelandesi, sudafricani, indiani, canadesi, sudanesi, che combatterono nelle file britanniche. Qualcuno commenta che il sindaco sta diventando leghista? No, il sindaco è convitamente italiano, italianista da sempre, da quando era un ragazzetto di 14 anni. Quindi non c'entra nulla la lega, non la lega. Evidentemente in questo momento storico si stanno ritrovando degli ideali di appartenenza, dei quali forse per un certo periodo addirittura qualcuno si è vergognato. Il sottoscritto mai. Poi i cittadini possono pensarla un po' come meglio credono, ma quando si veste una giacchetta di una carica istituzionale e il Presidente della Camera lo è, non ci si può permettere di fare scivoloni come questo.